lo capite perché è una vergogna? vi rendete conto che si tratta di una vergogna? perché di questo stiamo parlando, di una vergogna schifosa guardate qua, guardate qua, che schifo, che orrore ciao a tutti, questa diretta durerà poco, quindi mi scuso subito con tutti gli amici che sono collegati, che vedo già, vi vedo già in tanti collegati non risponderò ai vostri commenti, vi saluto uno per uno ma oggi quello di cui voglio parlarvi in maniera molto rapida è un argomento gravissimo e vi invito davvero con il cuore a condividere questa diretta, a condividere queste notizie è una cosa che tendo a non fare perché poi qualcuno può accusare diciamo ma tu vuoi fare crescere i tuoi consensi a tua pagina no, non me ne frega niente, non ne ho alcun bisogno invece abbiamo bisogno tutti insieme di raccontare la verità quello che è successo oggi supera veramente il limite della decenza e mi fa vomitare ve lo riassumo brevemente il signor Toti, attualmente governatore o presidente se preferite della regione Liguria nonché candidato alla presidenza della regione Liguria oggi si permette di pubblicare questa foto su Twitter leggete insieme a me cara Azzolina dove sono finiti i banchi che avevate promesso un'immagine come questa non è degna di un paese civile come l'Italia primo giorno di scuola e pubblica questa foto con dei bambini che sembrano costretti a scrivere in terra a scrivere sulle sedi, a stare seduti per terra con quei pallini che voi vedete in grigio perché non ho una stampante a colori ma che sono arancioni come il simbolo del piccolo e povero di voti partito fondato dallo stesso Toti ve lo posso far vedere anche dall'altro mio telefono è uno scandalo perché? perché questa foto rappresenta un falso rappresenta un falso si accusa Lucia Azzolina in quanto ministro dell'istruzione di non aver portato i banchi a Genova in quella scuola e di aver costretto quei ragazzi a quei bambini chiedo scusa a quei bambini perché si tratta di bambini a studiare in ginocchio per terra eccetera non è vero è una cosa falsa e gli stessi insegnanti di quella scuola direttori di quella scuola e genitori di quei bambini lo hanno smentito seccamente ho qui le foto di uno dei genitori che si chiama Giorgio Musso che dice in questa foto c'è anche mio figlio ha fatto due ore di lezione era felice e sereno è stato solo un breve momento di gioco errore della maestra a farci cuore a quelle foto ma mi viene il vomito a pensare che ci siano politici disposti a fare dei bambini poi continua strumento continuo io strumento di lotta politica eppure è questo i nostri bambini hanno vissuto veramente mesi difficili perché il covid è stato difficile per tutti figuratevi quanto può essere difficile per un bambino non vedere più i suoi compagnetti i suoi piccoli amici non vedere più la sua maestra il suo maestro i suoi insegnanti non andare a scuola è un rito in cui pian piano ci si stacca come dire dal cordone umbilicale con i propri genitori e si impara a vivere in società insieme agli altri ragazzi della propria stessa età e per gli altri bambini e agli altri amichetti oggi finalmente si rientra a scuola si rientra a scuola in sicurezza tutti sono stati concordi nel dire che la situazione è stata gestita dall'Italia meglio che da qualunque altro paese e Toti si permette di 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 speculare di strumentalizzare i nostri bambini raccontando una balla clamorosa perché lo stesso preside direttore di quella scuola ha detto che non era così sapevano che i banchi sarebbero arrivati domani cioè il giorno dopo del primo giorno di scuola e allora hanno deciso di togliere i vecchi banchi non fare lezione il primo giorno fare giocare i bambini farli disegnare farli stare insieme per prendere confidenza con il nuovo anno scolastico dopo tanti mesi in cui i bambini non sono potuti andare a scuola e domani metteranno i banchi e hanno tolto quelli vecchi perché naturalmente così c'è già spazio per quelli nuovi quindi è una strumentalizzazione schifosa e questo signore Toti dovrebbe chiedere scusa ma purtroppo non è il solo a dover chiedere scusa perché guardate cosa ha fatto il suo degno compare Matteo Salvini un'altra porcata col botto vedete qui Matteo Salvini ve lo faccio vedere scusate perché così tolgo l'effetto specchio pubblica un video che adesso vi faccio vedere di ragazzi che fanno l'autoscontro con scritto no comment Azzolina bocciata sono 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 dei ragazzi che fanno l'autoscontro ve lo faccio vedere adesso ecco qua ecco qua ecco qua Matteo Salvini contro Lucia Azzolina no comment i banchi con le ruote usati come autoscontro sarebbe un video in cui ci sono questi signori che questi ragazzi che fanno casino in dei banchi con le ruote quando la scuola ricomincia non ci sono nemmeno i banchi rilancia l'emblematico video leggete ecco questo è il giornale rilancia l'emblematico video che potete vedere qui sotto un video che è circolato moltissimo su TikTok dove viene introdotto dalla scritta quando la scuola ricomincia non ci sono i banchi ma soltanto o meglio dei banchi ci sono soltanto per alcuni quelli con le rotelle e i banchi rotanti come vengono utilizzati così come se fossero un autoscontro no comment tazzolina bocciata commenta l'aconico Matteo Salvini Matteo Salvini eccolo qua no comment tazzolina bocciata cari amici naturalmente anche questo è uno squallido falso quel video risale al 2017 non c'era covid non c'era Lucia Tazzolina ministro quel video non ha niente a che fare con le scuole italiane è una porcata è l'ennesima porcata è l'ennesimo falso che si fa per colpire la nostra la nostra Lucia Tazzolina è una roba che fa schifo che fa vomitare ve lo faccio vedere questo video perché io non dico bestialità non dico bugie e ammetto la lotta politica ammetto tutte le critiche accetto tutte le critiche possibilmente costruttive perché ci mancherebbe altro tutti noi siamo esposti compresa Lucia Tazzolina e se deve essere criticata la possiamo criticare ma non vi inventate queste porcherie non vi inventate queste porcherie perché questo video stavo cercando di farlo partire dall'altro mio telefono forse lo hanno lo hanno rimosso risale al 2017 ditelo a tutti ditelo a quelli che lo stanno facendo circolare e spiegate che Toti sta sta raccontando una bestialità raccontando che i bambini sono costretti a scrivere a terra a stare a terra senza banchi per colpa della Tazzolina per colpa del governo Conte lo sapete qual è la verità che per la prima volta c'è un presidente del consiglio che fa davvero gli interessi degli italiani che li sta difendendo che qui in Europa ha ottenuto 209 miliardi di euro il massimo di tutti i paesi europei per la prima volta l'Italia è quella che ottiene più soldi grazie a Giuseppe Conte grazie al lavoro della delegazione del Movimento 5 Stelle e Lucia Tazzolina con molto coraggio sta affrontando essendo anche una ragazza giovane la sua prima esperienza da parlamentare sta affrontando questa difficilissima prova e avremo bisogno come ha detto il presidente Mattarella dell'unione dell'unità dell'intelligenza e dell'aiuto di tutti e invece cosa succede? Succede questo succede questo schifo succede che dei politici sciacalli non mi vergogno di dire sciacalli si inventano notizie per attaccare un esponente del Movimento 5 Stelle Lucia Tazzolina e il presidente Conte e il governo Conte sono dei falsi fatela circolare questa diretta spiegate la verità il problema di Genova non ha nulla a che vedere con i nuovi banchi è stata una scelta della direzione di togliere i banchi vecchi in attesa di quelli nuovi che sarebbero arrivati oggi e saranno montati quindi domani e far giocare i bambini farli disegnare farli giocare nel primo giorno di scuola e i bambini erano contenti e i genitori dei bambini confermano che erano contenti è sereno è stato bene è stato solo un breve momento di gioco e poi Matteo Salvini secondo sciacallo della giornata pubblica un video che risale a tre anni fa accusando Lucia Tazzolina io una cosa ve la dico ve la dico in faccia ma non vi fate schifo ma non vi fa schifo ma non vi fa schifo abbassarvi a strumentalizzare i bambini raccontando balle per attaccare chi sta facendo il proprio lavoro io credo che dovreste vergognarvi vi invito davvero a far girare questa diretta perché questo non lo possiamo accettare possiamo accettare davvero tutto ma questo livello di menzogne così schifoso è una cosa che fa orrore i nostri bambini meritano di meglio che di essere strumentalizzati da personaggi del genere ciao a tutti